Per la rassegna Amimi, teatro festival Ferrandina, sabato sera in scena, lo spettacolo Otello o io, scritto diretto e interpretato da Francesco Paolo Antoni, che fin da subito ha fatto registrare il sold out. In scena un cast d'eccezione e tutti i protagonisti di una serata filodrammatica. Otello o io è uno spettacolo con una scrittura ispirata alla commedia dell'arte, dal ritmo veloce e con il meccanismo del teatro nel teatro e racconta le disavventure di una compagnia amatoriale che nel primo atto intenta a fare le prove di uno spettacolo che debutterà l'indomani sera. È uno spettacolo basato proprio sulla commedia dell'arte, quindi insomma c'è una compagnia di attori amatoriali che tentano di mettere in scena Otello, anziché il solito Edoardo come fanno le compagnie amatoriali, viene a mancare l'attore principale, il cui regista io è costretto a interpretare Otello senza sapere la parte per cui c'è il classico suggeritore che suggerisce male e quindi viene fuori proprio il meccanismo classico della commedia dell'arte. Soddisfazione per i numeri che questa edizione di Amemi Teatro Festival Ferrandina sta facendo registrare anche con i tanti sold out segnalati e intanto si sta già pensando a una prossima edizione. Che dire, quando si fanno sempre tutti sold out il bilancio è stra positivo, quindi sono felice, contenta quando un lavoro va così bene, è gratificante assolutamente. quindi in realtà già si sta pensando a nuove idee per una eventuale prossima stagione e che dire di più, insomma ringraziamo sempre che le cose siano andate molto molto bene. E' per questo che a noi altri ci hai fatto provare.